Ciao a tutti ragazzi sono sempre io Felix e oggi come da titolo andiamo a vedere qual è il miglior sito di guadagno online senza investire, senza investimento ragazzi del 2018. Soldi gratuiti su Paypal, soldi su Skrill, bonifici bancari, un bonus all'iscrizione di 1,50€ cliccando il link qui sotto per registrarsi, un prelievo minimo di soli 2€. E oggi andiamo a vedere di cosa stiamo parlando e andiamo a vedere qual è il miglior sito per guadagnare soldi gratuiti senza investimento del 2018. Prima di tutto ragazzi volevo ringraziare tutti voi, tutte le persone che mi stanno seguendo e che si stanno iscrivendo al mio canale di Youtube chiamato Felix, guadagnare soldi online ragazzi. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere le notifiche del mondo dei guadagni online sui siti e applicazioni per lo smartphone ragazzi. E prima di andare a vedere il sito volevo augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo. Ma adesso andiamo a vedere subito qual è il miglior sito di guadagno online senza investire del 2018. Quindi andiamo al desktop. Ebbene ragazzi eccoci qui, questo qui è il miglior sito di guadagno online del 2018 senza investimento. Il sito è chiamato marketagent.com, è un sito di sondaggio online, tutto in italiano ragazzi. Come potete vedere la traduzione è fatta alla perfezione. Sono esistenti anche due applicazioni sia per l'App Store che per il Google Play. Ma io vi consiglio di utilizzare il sito stesso chiamato marketagent.com. Alla registrazione ragazzi vi lascerò il link qui sotto in descrizione del video. Vi darà 1,50€. Basterà andarsi a registrare. Basterà mettere i vostri dati di registrazione ragazzi e accettare le condizioni. Avrete il primo sondaggio da completare. Una volta fatto il tutto ragazzi avrete 1,50€ nel vostro conto personale di marketagent.com. Questo sito qui ragazzi è esistente da anni. Solamente nel 2018 ha pagato i suoi utenti gratis. Come vedete qui ben 2.535.000 euro. Ragazzi tutto totalmente gratuito. Una volta che vi siete registrati ragazzi potete andare ad effettuare il login all'interno del sito. Clicchiamo non sono un robot. Effettuiamo il login. Una volta entrati all'interno del sito si presenterà così. Questo qui è il nostro sommario e tutti quanti voi se vi siete registrati dal link qui sotto in descrizione avrete 1,50€ come bonus che sarebbero 150 punti. I punti sono soldi ragazzi. Ogni 100 punti sono 1€. Io attualmente ho 54.300 punti ragazzi che equivalgono a pensate bene 543€ ragazzi. Tutto con un unico sito chiamato marketagent.com. Dopo andiamo a vedere ovviamente anche le prove di pagamento sul mio conto personale di Paypal. Ma adesso andiamo a capire come ottenere i sondaggi e come pubblicizzare al massimo marketagent.com. Il sito ragazzi è sia un sito di sondaggi personale che un sito di affiliazione. Cosa vuol dire affiliazione ragazzi? Vuol dire che se noi facciamo registrare una persona, quella persona lì riceverà il bonus di 1,50€ e noi riceveremo 1€. Ma il nostro euro che abbiamo ricevuto sarà bloccato finché quella persona che abbiamo invitato ad iscriversi a marketagent.com non completa il primo sondaggio. Una volta che quella persona che abbiamo fatto iscrivere ha completato il sondaggio, noi riceveremo 1€. Per chi vuole basarsi sulle affiliazioni come faccio io, basterà andare in programma webmaster. Qui ragazzi ognuno di noi avrà un link personale per far registrare le persone ed è questo qui. Andate a copiare questo link qui ragazzi ed è il vostro link personale per far registrare le persone. Potete mettere questo link all'interno dei blog, all'interno dei vari social per far invitare le persone a registrarsi a marketagent.com. Ripeto, ogni persona che si registra guadagnerà 1,50€ e il prelievo minimo è di soli 2€. Per ottenere i sondaggi ragazzi invece basterà una volta che vi siete registrati e avete ottenuto il bonus qui andare per ricevere i sondaggi in tipizzazione. Tipizzazione che cos'è ragazzi? Praticamente sono dei brevi sondaggi nostri personali per ricevere i sondaggi. Infatti c'è scritto aggiungi informazioni al tuo profilo. Più informazioni diamo al nostro profilo personale, più Marketagent ci invierà nel sommario i sondaggi. I sondaggi ragazzi ci arrivano su marketagent.com e ci invia anche le email nella nostra posta elettronica personale. Una volta che ci sono i sondaggi disponibili. I sondaggi possono variare da 10 punti che sarebbero 10 centesimi fino ad un massimo di 200 punti che sarebbero 2€ ragazzi. Una volta che abbiamo raggiunto il prelievo minimo possiamo andare a prelevare andando in borsa a scambio. Qui ragazzi possiamo prelevare tramite bonifico bancario, tramite Skrill e tramite Paypal ragazzi. Come vedete io attualmente ho 543€. Posso andare a prelevare con Paypal, basterà premere su da scambiare e come vedete qua ragazzi lui ci farà la conversione dei punti in euro. Basterà mettere la nostra email personale di Paypal se vogliamo prelevare con Paypal e qui mettiamo i punti che vogliamo convertire in euro. Per esempio la transazione massima di prelievo in marketagent.com è di 100€ quindi metterò 10.000 punti. Bastrà premere un attimo e come vedete mi è fatta la conversione in euro. 10.000 punti equivalgono a 100€. Mettendo la nostra email personale di Paypal premiamo su trasferire. Dopo ragazzi neanche 24 ore ci verranno accreditati i soldi gratuiti sul nostro portafoglio personale. E questo qui è il sito chiamato marketagent.com. Io lo reputo il miglior sito di guadagno online del 2018 che ho scoperto senza dover investire nulla ragazzi. Ma adesso andiamo a vedere nel mio conto personale di Paypal tutte le prove di pagamento di marketagent.com. Come vedete ragazzi sono nel mio conto personale di Paypal e come vedete questi qui sono tutti i pagamenti di marketagent.com. Ho effettuato la cronologia su Paypal, il mio conto personale, dal 1 gennaio del 2018 fino ad arrivare al 24 dicembre del 2018. Questo qui è un anno intero di marketagent.com. E come vedete ragazzi questi qua sono tutti i pagamenti. Ho incominciato a prelevare dal 15 di febbraio e non mi sono mai fermato fino ad arrivare adesso al 21 di dicembre. Come avete visto prima nel mio conto marketagent ho attualmente altri 500 euro da prelevare ragazzi. Tutto in un unico sito chiamato marketagent.com. Per me il miglior sito di guadagno online del 2018 senza investimento. Ebbene ragazzi per il video è tutto. Per chi vuole registrarsi a marketagent.com ed ottenere 1 euro e 50 come bonus ragazzi. Ricordo a tutti che il prelevo minimo è di soli 2 euro e si può prelevare con Skrill Paypal e tramite bonifico bancario. Noi ragazzi ci vediamo e ci sentiamo nel prossimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo da Felix. Ciao!